25 anni senza mia martini voce unica della nostra canzone stasera su rai 1 io sono mia il film tv con a serena rossi che racconta la sua arte virginia volpe sanremo 1989 mia martini torna dopo il ritiro dalle scene con almeno tu nell'universo voce inconfondibile artista dalla vita tormentata lei amata per lo straordinario timbro magnetico dolce ed emozionante lei che aveva raggiunto il successo negli anni 70 25 anni senza mimi morta per un overdose di farmaci il 12 maggio 95 questa sera l'omaggio di rai 1 con il film tv io sono mia protagonista serena rossi arte e vita di un interprete indimenticabile talento unico e carriera assegnata dal pregiudizio le malelingue come gli haters di oggi la depressione i tentativi di rialzarsi il tutto con la musica nel cuore l'intensità e la passione ancora oggi impossibili da dimenticare no minuto sono no it no ma